Oh amico mio, anche oggi sono venuto qui a darti da mangiare Come dici? Ci sono i guerrieri che mi stanno guardando? Oh, ciao a tutti i guerrieri, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Frost Ed oggi ritorniamo su BlogsFruit Perché il mio amico qui presente, Bartillo, mi ha detto che Devo farvi vedere ancora il come ottenere la True Triple Catana Ebbene sì Allora, ricollegandoci un momento al mio video precedente Su come trovare il Legendary Sword Dealer, i suoi punti di spawn e via dicendo Tutto si ricollega a quel video Ebbene, per ottenere la True Triple Catana Vi servirà principalmente una cosa La Shizui La Wando e la Saddi Saddi, Wando Tutte e tre a Mastery 300 mi raccomando E la Saddi ce l'ho un attimo a Mastery 263 Datemi un attimo che la recupero subito Ok, guerrieri, stavo dicendo Shizui, Wando e Saddi Le tre spade leggendarie che vende il Legendary Sword Dealer Devono avere tutte e tre Mastery 300 Ovviamente, Bartillo ha già fatto fuori la merenda Per parlare con il Manager e sapere quando spawna Dovete necessariamente fare la missione di Bartillo Troverete il mio video vi guida al riguardo Poi, lui, se vi esce questo messaggio It's too early for you to be here Significa che siete appena arrivati nel server E dovete aspettare almeno dieci minuti Ricordo quest di Bartillo Per poter parlare con il Manager Altrimenti vi dirà Non mi ricordo cosa vi dirà Però tipo benvenuto Oppure no Sei nuovo da queste parti? Queste sono le sue frasi Comunque Dirigiamoci verso la Green Zone Ossia questa zona di foresta qui Oramai la conoscerete in tanti Invece quelli del Sia 2 Proprio freschi freschi Appena arrivati La conosceranno sul momento E dovremo arrampicarci Precisamente su una di queste piante Una in particolare Ossia 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 Questa qui Vedete? Questa qui Iniziamo ad arrampicarci Ok Siamo arrivati in cima Cosa c'è in cima? In cima c'è questo NPC Che seccado mamma mia vi giuro Spacco il computer Eccolo qua Questo è l'NPC in questione Parliamo con lui Mi raccomando Masteri delle tre spade leggendare al 300 Hello Hello Fillo swordsman It's a place You have mastered All the Legenda di swords Ossia avete masterato Le tre spade leggendaria Desideri imparare La True Trip Katana Style Per Due milioni Ovviamente Si Ok E si sblocca pure il titolo Se non sbaglio si sbloccava un titolo Non importa Penso che si sbloccherà in un secondo momento Si sbloccava il titolo di Demon Eye Ossia occhio del demone Ora Vi faccio vedere che l'ho sbloccata Eccola qui Et voilà True Trip Katana Ottenuta Ecco qua i titoli Demon Eye è Che c'è stato scritto? Demon Eye è The Horkan Ok C'è tipo la tempesta L'uragano Non mi ricordo la traduzione giusta Però Ecco qui La True Trip Katana Voilà E per questo video È tutto guerrieri Se avete domande Rivolgetemele Nei commenti E io vi do appuntamento Al prossimo video Ciao Guerrieri Siete sempre forti